Una volta Sacra Moschia Mecca per fare la preghiera, un principe di questo programma lo hanno fatto 5 minaretti in questa moschia grande, ok? Tutte queste cose sono da Turchia, da Morocco, ok? Vedete qui l'ultima foto del minaretto si può fotografare di qui, giusto signor fai foto? E da questa parte si può fotografare con Duomo, con il minaretto lungo, tutti scritti, ok? E se può fare l'ultima foto di qui e dopo noi capisci la video.